Ciao Bibbiafili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale Sì, sono vestita nello stesso modo dell'unboxing della Fairyloot, quindi il video precedente Perché non mi va di cambiarmi la felpa o la maglietta o quello che è Vi beccate il video così, anche perché ho pochissimo tempo per registrare Però voglio farvi vedere l'haul del Comic-Con di quest'anno Sono ormai tre anni che vado al Comic-Con Tre anni che lascio tutti i miei averi al Comic-Con per comprare di tutto e di più In realtà quest'anno sono stata relativamente brava E ho speso comunque un po' ma sono stati acquisti giusti in manga e fumetti Quindi dopo essermi quasi spezzata i polsi per fare la fotocopertina Direi di farvi vedere quali sono stati gli acquisti di quest'anno del Comic-Con Sto dicendovi qual era il mio vero e proprio obiettivo di questo Comic-Con Trovare i manga di Dragon Ball nella Perfect Edition Ovvero qui accanto a me, qui sotto, eccoli Qui ci sono i manga di Dragon Ball della Perfect Edition Che è un'edizione Star Comics che è andata, diciamo, in edizione fumetteria Da 2006 al 2008 34 numeri E io avevo i numeri dal 16 al 33 Cioè io nella mia adolescenza ho comprato tutti questi numeri Dal 16 che era il primo che trovai appunto in edicola penso all'epoca Fino al 33 Non so perché fui talmente idiota da non prendere il 34 Ovvero l'ultimo volume Comunque avendoli ritrovati in cantina Io pensavo fossero andati perduti Ho deciso di prendere, cercare di prendere gli altri volumi che mi mancavano Mirko di Mirko Smith è stato tanto tanto gentile da mandarmi il primo volume Quindi dovrebbe arrivarmi e dovevo comprarli tutti gli altri Quindi dal 2 al 15 e poi il 34 Sono riuscita a trovare al Comic-Con ben 6 volumi Sono 6 Sì, sono 6 Ho trovato 2, 3, 7, 9, 10 e 12 Quindi i manga sono essenzialmente questi qui Appunto il 7 Il 3 2 12 Bene, ho rischiato più di trarre di mano 10 E 9 Tutti a prezzo più o meno giusto dai 4 ai 7 euro in realtà Perché uno solo l'ho comprato a 7 euro Gli altri a 4 e 5 euro E sono molto contenta perché comunque sono 6 numeri E sono in ottime condizioni Ora sui beni ho trovati altri Ma faccio un appello Se avete il numero 34 soprattutto Non lo so, ve lo pago Ne ho bisogno Bisogna di completare questa collezione di manga Mi mancano il 15 e il 34 Però il 15 penso di trovarlo comunque sui bei o su subito Mentre il 34 pare quasi introvabile Comunque fa parte di collezioni E giustamente il venditore non vuole dividere il tutto per l'ultimo numero E ci hanno anche ragione Quindi aiutatemi a trovare il numero 34 Detto ciò, questo è stato il primo acquisto del Comic Con Ma era proprio la mia missione E sono molto contenta per com'è andata Faccio vedere ora i 3 fumetti che mi ero portata da casa Per farmeli autografare lì al Comic Con 2 Tunuè e un Bao Iniziamo da Tunuè perché poi continuiamo con Bao Mi ero portata appunto Daisy Di Marco Barretta e Lorenza Di Sepio Che mi è piaciuto tantissimo L'ho acquistato poco prima del Comic Con E me lo sono fatta appunto schiacciare Da Lorenza Di Sepio C'è anche poi la firma di Marco E mi è piaciuto appunto tantissimo E lo consiglio Spero infatti ci sia prima o poi un seguito Tunuè tipi tondi Che potete trovare a prezzo di 14,50 euro Io l'ho comprato quando c'era ancora il 25% Quindi l'ho pagato 10 euro Comunque sarà 12 su Amazon con il 15 Mi è piaciuto tanto È un fantasy comunque molto semplice Ma allo stesso tempo complicato Infatti troppo breve per quello Spero ci sia un seguito E poi Gerd Di cui trovate la recensione sul canale di Marco Rocchi e Francesca Carità Che ho incontrato Bene qui dentro c'era un'altra cosa Che non c'erava niente Ma comunque ecco il disegno di Francesca Carità Eccolo qui E Gerd l'ha trovata al prezzo di 19 euro Anche questo è un tipi tondi Però in copertina rigida Una storia molto carina Comunque c'è in questo caso La recensione sul canale Passiamo a Bao Perché appunto qui dentro c'era Il bigliettino di Bao Ma vi faccio vedere prima La cosa che mi ero portata Ovvero Umberto di Oldenaccio Di cui ho parlato su Instagram Ne parleremo nel wrap up Ed ecco qui il disegno di Oldenaccio Che è questo ragazzo Molto molto giovane Mannaggia non si vede benissimo Comunque mi ha disegnato proprio Umberto L'alieno ecco Con una dedica molto lunga Ragazzo molto giovane Pugliese Ed è una graphic novel Che mi è piaciuta tanto Ne parleremo nel wrap up Ma C'era appunto questo Perché Bao ha inaugurato La nuova collana Iken Iken che significa Cane adorato E appunto qui potete vedere I manga che ci hanno portato Questa è appunto Logo Di Iken E la Bao è stata E la Bao è stata talmente gentile Da darmi Da donarmi Tutti e tre I manga Ovvero abbiamo Enshin Di Al contrario Abbiamo Enshin Di Ken Nimura Che è lo stesso autore Di I Kill Giants Ed è un manga singolo Uno zio rapinatore Un gatto invisibile Un papà con i superpoteri Giorni normali Di vita straordinaria Nel Giappone di oggi Raccontati appunto Dal disegnatore Di I Kill Giants È molto molto carino Mi piace molto Non vedo l'ora di leggerlo Appunto Un manga singolo E la cover Mi piace tanto Questo è più alto Rispetto Agli altri Voilà Agli altri due Eccoli Allora Poi abbiamo Il secondo Che è sempre Un volume singolo Fior di Biscotto Di Hana Boro Credo Io spero Che loro nomi Si pronunciano così Comunque Questa è la scuola Per la quale Siamo passati tutti Ci ha visti diventare Quelli che siamo I nostri dessini Ci sono stati Sussurati Per la prima volta Qui È appunto Un insieme di racconti Di come i ragazzini Si adattano Alla scuola Giapponese Ecco Anche questo è singolo E questo mi ispira Davvero tantissimo Ed infine Unico manga Che sarà Una vera e propria Raccolta Di sette volumi Dosei Mansion One Ecco Primo volume La terra È una riserva naturale L'umanità vive In un anello abitativo Che le orbita intorno La popolazione È rigorosamente Stratificata In classi sociali L'umile figlio Di un lavavetri La guarderà Come nessuno L'ha mai vista Questo sembra molto dolce Sarà appunto Una nuova Saga di manga Sette volumi Di mestrale Non vedo già l'ora Di leggerlo E questi sono appunto I nuovi manga Che la Bao Ci ha portato Con Aiken Io sono troppo contenta Tra l'altro Insieme a questi tre manga La Bao Ci ha donato la spilla Che è molto carina Ce l'ho qui Eccola Spilla di Aiken Che è molto carina Perché appunto Il logo mascotte Di Bao Publishing È una figura votiva Giapponese Che simboleggia Costanza Ottimismo E esaudisce Desideri Aiken Il manga Che non c'era Il manga secondo Bao Publishing Mi piace tantissimo La spilla E ho anche la Totebag E sono troppo contenta Quindi Questi sono i doni Meravigliosi di Bao Non vedo l'ora di parlarvi Di questi nuovi manga Continuiamo Con Manga Senpai Siamo passati appunto Vabbè Dai miei acquisti Di Dragon Ball Perché dovevo comprarli Tu nu è Bao Arriviamo a Manga Senpai Perché mi sono stati donati Quattro volumi Meravigliosi Il primo È questo Non vedevo l'ora Ovvero Pendulum Di Claudia Giambusso C'è già la recensione sul canale Da qualche parte Ve la linko Dei primi due volumi È un manga molto particolare Ho scoperto Lì appunto Al comicon Parlando con l'autrice Che saranno otto volumi Più uno spin off Che il quarto Uscirà A Luca Comics È una storia Fantasy Barra romance Molto semplice In realtà Che comincia un po' A complicarsi In questo terzo volume Che però Mi ha catturato tantissimo Come non faceva Un manga da una vita Quindi io ve lo consiglio Abbiamo fatto anche una live Con l'autrice Sul canale Instagram di Chantal Ho coinvolto Chantal Susi e Camilla Nella lettura E siamo tutte Un po' impazzite Tra l'altro Me l'ha anche Questa Me l'ha anche Schiacciata E sono tanto contenta Perché io amo Cioè Mi sta piacendo tantissimo Quindi se avete Più o meno I miei gusti Io ve lo consiglio Pendulum Andiamo avanti Con questo qui Un manga Tidal The Eternal Sun Tidal Loc Sì Tidal Loc The Eternal Sun È appunto Questo manga Sempre di manga Senpai Dove in un mondo Devastato Da una terribile Cataclisma Un'oscura energia Minaccia di porre Fine alla vita Del pianeta Ci sarà la storia Di Isao E di come ha scoperto Il più grande mistero Dell'umanità Manga Senpai 6,90€ E anche questo Mi è stato Schiacciato Dall'autrice Eccolo qui Qui invece c'è Un segnalibro Mi piace molto E questo appunto Primo volume Non so di quanti Pendulum Non vi ho detto Costa 6,90€ Questo appunto 6,90€ I disegni Mi piacciono tantissimo Tra l'altro E sembra molto Molto bello Tra l'altro Tutte queste autrici Sono italiane Quindi Adoro Poi Questo qui Che ha già letto Chantal Mi ha detto Che è bellissimo Dirty Waters Primo volume di 4 Ci sono già i primi 2 Il terzo in preordine Al momento Anche questo Mi è stato Schiacciato Devo solo trovare Dove Credo qui Sì Eccolo qui Dirty Waters Che invece Ha a che fare Un po' con i vampiri Diciamo Da quel che ho capito In un paesino Del sud Degli Stati Uniti Un mostro omicida Semina paura e morte Il giovane Vlad Viverebbe proprio Nel luogo In cui Quegli efferati Delitti Sono stati perpetrati Cosa è successo Realmente Chi è lo strano ragazzo Che segue Vlad Osservandolo Con il guigno Di un teschio Ovvero Lui Mi piace molto E Mi piace molto Anche la cover Mi è stato dato Anche qui Una cartolina E sono molto Molto contenta Di questo volume In realtà Di tutti e tre I volumi Dei manga Di manga senpai Sono veri 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 contenta Vi giuro A parte gli scherzi Sembrano tutti Pendulum Mi piace tantissimo Questi due Sembrano molto belli Sono autori italiani Autrici italiani Che ho conosciuto lì Sono molto brave Carine e gentili E non vedo l'ora Di parlarvene meglio Ma infine Per manga senpai Ho anche ricevuto La prima Light novel italiana Ovvero Questa qui The legend of the light knights I cavalieri della luce Di Gabriella Morgillo Che è stata tanto Tanto carina Mi ha fatto una dedica Bellissima E Ho preso anche Il mio libro Ed è praticamente Una storia In cui all'interno Non ci sono solo Parole Non è un libro semplice Ma ci sono anche Dei disegni Quindi un misto Di libro E fumetto Che si chiama Light novel Volume unico Se non ricordo male Costa 18 euro E mi piace tantissimo Cioè quando sono arrivata A manga senpai Allo stand Al comic con Mi ha attratto tantissimo La cover E quindi L'ho ricevuto Dall'autrice stessa Io sono talmente grata Che non ho parole Perché mi ispira tantissimo Anche lei è una giovane Autrice italiana Sono molto contenta Non vedo l'ora di leggerlo E di parlarvene Sono davvero davvero Contentissima E quindi questi I doni Di manga senpai Per cui sono Stragrata Arriviamo ai miei Acquisti Perché comunque Ho anche acquistato Dopo Dragon L'ho fatto anche altri acquisti Anche se Devo dire la verità Questo comic con È stato più Un comic con Del cibo Perché ho speso più in cibo Lasciamo stare Comunque Ho acquistato due manga Che volevo tantissimo E ho iniziato Quindi una nuova serie di manga Che dovevo iniziare Dovevo solo convincermi E il comic con Mi ha convinto Ovvero questi Allora Rossana È uno dei miei cartoni preferiti Uno dei miei anime preferiti Dovrei dire Ma io lo vedevo su Italia 1 Quindi per me era un cartone E Eric È stata una delle mie prime crush Insieme a Vegeta Quindi Ho preso i primi due volumi Della nuova edizione Del giocattolo dei bambini Quindi Rossana E mi piace tantissimo Costano 12,90 euro Però saranno solo Sette volumi E se non sbaglio Sono già usciti tutti O comunque i primi sei Sicuramente sono usciti Il sette Quindi sarà per uscire Perché era mensile Ma tra l'altro Ci sono delle tavole Colorate bellissime Rossana comunque Mi piace tanto Mi hanno detto Che il manga è molto più bello Molto più intenso Ecco E quindi Ho acquistato I primi due volumi Pian piano Comprerò anche gli altri Per forza Perché io Amavo Rossana Ditemi che anche voi Eravate innamorati di Eric Vi prego E odiavate quell'altro Di cui non ricordo il nome Con i capelli argentati E anche quella ragazzina Che poi si metteva con Eric No Eric e Rossana Una delle prime OTP meravigliose Quindi primi due volume Acquistati al Comic Con Mi sono convinta Comprerò spesso Spesso Presto Anche gli altri Andiamo avanti Perché ho acquistato poi Altri due fumetti Schiacciati entrambi Tra l'altro Il primo L'ho comprato da Becco Giallo Questo a causa E grazie a Giorgia di Passione Retorica Che abbiamo incontrato al Comic Con Perché ce l'ha fatto vedere E io e Chantal L'abbiamo comprato Perché ci siamo innamorate Ovvero Una graphic novel Dedicata a Vincent Van Gogh La tristezza durerà Per sempre Guardate che bello Questo è il prezzo di 17 Noi l'abbiamo pagato 15 E guardate lo sketch Cioè Io ero innamorata Mentre Sacca Si chiama La giovane Illustratrice Comunque Fumettista Andava a fare Questi disegni Cioè Credo sia Bellissimo Mi ricorda molto Tim Burton Quindi Capite che dovevo averlo E niente Mi piace tanto Non vedo l'ora di leggerla E Me la sono Diciamo Mi sono concessa Questo acquisto Perché secondo me È davvero molto particolare È molto bella Quindi da Becco Giallo Ho preso questa Ed infine Ultimo acquisto Dalla Panini Panini Comics C'era uno stand enorme Bellissimo Come ogni anno Ho comprato Le Cronache Di Under York Illustrato da Mirka Andolfo Con la storia Di Sylvan Rumberg Primo di tre Volumi Di questa nuova serie Fantasy In cui si parla Di streghe C'era lì Mirka Andolfo Me lo sono fatta Scheggiare Eccolo qui Quindi Questo è l'ultimo acquisto Mi piace tantissimo Mi piacciono molto I disegni A me Mirka Andolfo Piace tanto Infatti sto pensando Di comprarmi anche Contro Natura Lei l'ho conosciuta Grazie alle Witch Però Dell'anno scorso Però Questo mi piace tanto E non vedo l'ora Di vedere Com'è la storia E di andare avanti Comunque saranno Solo tre volumi Questo l'ho pagato Dieci euro Comunque Questi Tutti i miei Acquisti E omaggi Regali meravigliosi Del Comic Con Non ho comprato Gadget In realtà Mi sono state regalate Delle spille Ma Non ho comprato Altro Sono stata molto brava E vi lascerò Tutti i link Per acquistare Questi fumetti Ovviamente Tutti Tranne Dragon Ball Nell'infobox Nell'infobox Come sempre Trovate anche I miei social E tutte le informazioni Che vi servono Io vi ringrazio Tantissimo Se mi seguite Anche sugli altri social Se commenterete Questo video Metterete mi piace E Insomma In qualche modo Aiuterete E il mio canale Io spero Io spero che Questo piccolo All Piccolo Relativamente Vi sia piaciuto Fatemelo sapere Appunto E niente Tutto quello Che c'è da sapere C'è nell'infobox E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao